In questa finale i tempi sono già ufficiali e siamo all'ultima finale dei 200 dors, una finale diretta assoluti maschi. Prima di presentare questi protagonisti ricordo che al termine di questa finale andremo in zona podio a consegnare tutte le medaglie del dorso, quindi l'invito ai premiati e alle premiate a portarsi in zona cerimoniale. E dunque finale diretta, 200 dors assoluti maschi, sono assenti Denis Scorcaro alla 1 e Gianluca De Caro alla 6. Noteranno alla 2 Nicolás Barcon Montebelluna, alla 3 Paolo Fava Idros, corsia 4 Nicolò Trabacchin Sporting Club Noale, alla 5 Federico Mestroni Arcatim, alla 7 Jacopo Sandri Montebelluna, alla 8 Franco Salvador Idros. Grazie a tutti. E dunque come detto l'ultima finale del dorso e poi in zona podio a consegnare tutte le medaglie. Si tratta come detto di finale diretta, dunque ci si basa sui tempi di iscrizione per l'assegnazione delle corsie, passaggio 50 con Federico Mestroni, 28 e 28, Trabacchin che insegue 28 e 94. Sempre Mestroni alla 5, Trabacchin alla 4, prime due posizioni, vediamo la situazione ai 100 metri, Federico Mestroni 58 e 86, 30 e 58 i suoi secondi 50, Nicolò Trabacchin 30 e 75, Paolo Fava 31 e 73. Vediamo se ne avrà per rientrare nella seconda parte di gara Nicolò Trabacchin alla 4, erano 83 i centesimi a dividere gli atleti ai 100 metri. Diventano 97 ai 150, Mestroni 32 e 23, Trabacchin 32 e 37. E poi sempre stabile in corsia numero 3, Paolo Fava ipotecare la terza posizione. Reazione che arriva da parte di Trabacchin, però forse troppo tardi per andare a impensierire Mestroni, a lui va la vittoria, 2-0-2 e 70. Nicolò Trabacchin 2-3 e 53, Paolo Fava 2-0-5 e 65. Anche in questo caso si completano tutti gli arrivi, attendiamo una conferma che arriva e dunque risultati già confermati.